Seduta pomeridiana di allenamento e domani rifinitura per il Taranto di Fabio Prosperi in vista del posticipo di lunedì sera contro il Francavilla Fontana. Il match sarà diretto da Armando Ranaldi, arbitro della sezione di Tivoli. Il nuovo medico sociale del Taranto, Carlo Milani, sta verificando le condizioni di Cedric, Stendardo e San Pietro, per il resto tutti a disposizione del mister. Taranto alla finestra dunque nella domenica calcistica. Alcuni scontri diretti potrebbero consentire ai Rosso Blu di lasciare la zona playoff, ma a patto di fare intera la posta in palio contro i cugini della Virtus Francavilla. Intanto sembra certo che l'ottavo di finale di Coppa Italia di Lega Pro tra Taranto e Messina di mercoledì 23 novembre si disputerà alle 16.30 allo stadio Erasmo Iacovone. La società Rosso Blu aveva chiesto un orario serale le 20.30, ma quella siciliana, che vorrebbe far rientro in nottata, ha chiesto la pomeridiana.